Buonasera, siamo qui sui Kennedy Stadium, stasera si affronteranno Caffè Majestic contro Eurobet San Giovanni. La squadra fa nell'ora ingresso in campo e si posiziona al centro del terreno di gioco. Momento di fair play fra le due formazioni. L'abitro di stasera è il Gigi Dalisse che chiama a sei i due capitani per il sorteggio dalla palla e del campo. La squadra fa nell'ora ingresso in campo e si posiziona al centro del terreno di gioco. La squadra fa nell'ora ingresso in campo e si posiziona al centro del terreno. Oggi è la squadra di gioco. La squadra fa nell'ora ingresso. L'abitro di gioco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.